Oggi siamo nella campagna salentina e più precisamente a Novoli, a pochi chilometri da Lecce. Sono venuto ad incontrare un amico di vecchia data. Il suo nome è Fabio, è un artista, un pittore che crea delle opere meravigliose e oggi voglio raccontarvi la sua storia. Adesso entriamo e vi faccio conoscere Fabio. Fabio, siamo pronti? Sei pronto tu? Sì, io sono pronto. Hai chiesto di fare questa introduzione? L'ho finita, dai. Bene, allora siamo qui. Questo è il tuo studio, il tuo laboratorio. Anche se poi è quasi tutta la casa che è diventata un laboratorio, però è qui dove lavoro in questo momento di più, con la pittura. Bene, bene. Va bene, faremo vedere meglio i quadri e parleremo della tua arte. E adesso entriamo nella parte soggiorno, diciamo, ma anche qua ci sono tantissime opere d'arte. Bello, il caminetto, spettacolare. Ci sono da 12 anni, appena ho trovato questo posto mi sono sentito quasi subito a casa e poi pian piano ho cercato di farla mia. Sono in affitto per una bellissima vecchia casa, diciamo, di villeggiatura che nel frattempo è stata trasformata, ha subito molti cambiamenti. C'è un po' di alberi di natura intorno che cerco di mantenere e per il resto niente, lavoro qui. E questa è la tua tv, immagino? È la mia tv, è il mio riscaldamento per tutto l'inverno, è il posto dove molte volte mi piace cucinare. Ti faccio vedere un po' di cose che sto facendo, che ho fatto. La casa è piena di lavori di moltissimi differenti periodi. E qui sto facendo, sto utilizzando questa tecnica dell'acquarello, anche se è un po' mista perché uso anche della tempera bianca. I temi in questo momento hanno a che fare molto con la primavera che sta arrivando, che tutti stiamo aspettando, che già in qualche modo cova dentro questo inverno nel cuore della terra. E quindi è più o meno il tema che sto utilizzando. Qui, come puoi vedere, ci sono altri. Io lavoro molto, non a ripetizione, però quasi ad accumulo. È come tutto un viaggio che io sto facendo da un certo disegno da cui sono partito e poi continuo e nel frattempo scopro o aggiungo delle cose. Mi ritrovo ad essere molto più decorativo rispetto al passato e questa cosa mi sta prendendo un sacco. Su dei costumi, su dei disegni, degli ornamenti, che potrebbe essere una cosa superficiale. In realtà io non sono mai andato così a fondo nel curare un po' i dettagli dei vestiti o del paesaggio intorno, così ero molto meno, ero molto più scarno. Ho comunque anche altri dettagli nel paesaggio. Molto bello. I colori stanno diventando sempre più psichedelici, direi. Anche questo, sembra quasi che lei abbia una fiammella, in realtà è un fiore, è il primo fiore della primavera e sembra che lei quasi lo stia chiamando con tutta se stessa. Questi, ad esempio, sono partiti da questo punto. Questo è il primo che ho iniziato a fare, diciamo, un mesetto e mezzo fa e da qui poi pian piano mi sono spostato. Questo era un tema già ricorrente. L'anno scorso ho fatto una mossa in cui c'erano dei lavori con questo tema, l'uccellino, che è sempre molto presente nei miei lavori. Da qui ho cominciato a spostarmi, sempre per un lavoro sul viso, sui volti, su dei ritratti. Stavo cercando altro e quindi anche la screpulatura di questo volto, perché ho cominciato a lavorare anche con delle spugne, con delle cose, quando si imbeveva troppo il lavoro. E niente, poi pian piano sono arrivato ad aggiungere dei dettagli. Qui, come si può vedere, c'è un'arancia, in qualche modo, a che fare anche. Metto delle piccole suggestioni, come dei riferimenti a qualcosa che c'è in questo momento. Può essere una luna crescente nel cielo, o un frutto di questa stagione, un fiore che magari un po' dovrà sbocciare. E quindi niente, poi pian piano siamo arrivati a questo. Un altro dei temi è sempre questo piccolo, questa piccola casetta che mi ricorda moltissimo tutti questi casolari di campagna che si usavano un tempo da queste parti ormai abbandonati, però che trovo molto poetici. ho iniziato a metterli quasi sempre dentro questi dati. È una nuova serie che sta uscendo fuori, ci vedo molto collegamento, perché poi, quando sto qui a dipingere, molte volte non è soltanto quello che io sto immaginando, ci sono un sacco di altri suggerimenti che mi arrivano da una musica che sto ascoltando, piuttosto che un episodio che in quel giorno mi ha colpito in maniera particolare, una costellazione che ho visto in cielo, o, ripeto, altre piccole visioni, come ad esempio mi è successo l'altro giorno tornando a casa, in cui l'albero all'entrata si presentava, pienissimo carico di questi piccoli passerotti neri, che stavano tutti immobili, e ho trovato questa cosa alquanto poetica, e quindi l'ho voluta riprodurre. Adesso invece ti prendo degli altri lavori, vado un attimo nella mia stanza, storno subito. Questa è una tela che è stata recuperata e utilizzata per poi dipingere con un tema che è venuto fuori quest'estate, però quello che è bello è che poi alla fine riesco a lavorare su qualsiasi tipo di supporto, non è che mi limito solo alla carta, oppure alle tele, ho molti lavori anche sul legno o altri materiali recuperati. Questa è un'altra tela, anche questa rigorosamente recuperata, e niente, fa parte dei lavori autunnali, in cui secondo me stavo cercando una nuova strada, una nuova direzione, e ho sperimentato un po' con vari supporti e con vari tipi di colori, mischiando anche il pastello a olio, quello più morbido che ci sia, o mischiandolo con gli acrilici, o con qualsiasi tipo di colore avesse a disposizione. Questo invece è un lavoro che risale a più di dieci anni fa, dodici per l'esattezza, ed ero partito da un'esperienza in cui stavo stampando dal legno, da sporti legni molto fragili, molto deteriorati, trovati in spiaggia molte volte, ed era una specie di xilografia antelitteral, perché io stampavo a mano, utilizzando dei pigmenti in spiaggia di color di vino. In poche parole, da questa serie di disegni sono venute fuori poi, queste che io chiamo, non sono nemmeno lampade, quanto dei punti luce. E questo invece è un supporto differente, è un vecchio quadro in legno, l'ho rigirato, e ho utilizzato la parte di dietro, e lo risale a quest'estate, è interamente lavorato ad acrilico, e forse c'è un po' di tempera. Il soggetto e il modo in cui è stato dipinto, sono cosciente che è molto differente dalle cose che ti ho fatto vedere su carta, però risale a un momento di quest'estate, anche qui in cui stavo cercando, mi piaceva giocare molto con tutti i differenti colori, e i personaggi che ho creato. Dai Gianni, ora andiamo e prendiamo del formaggio buonissimo da una masseria nei pressi. la signora Rosa è bravissima con tutti i latticini, ricotta e ricottine, e questo è di pecore e di caldo mischiato. Ho visto una giocata, una giocata bella. Una giocata bella. Allora? La fine del mondo. Quello vuoi? Buono. Che latte è questo? Dopodiché pecore? Pecola. Se sente tutto le pecore, che mangia? Vabbè no? Prima prima vanno a Pasquolo, poi quando rientrano, si mangiano il foraggio, i cereali per la sala mucitura, Gran Turco, orzo e papo. Spettacolo. E basta. E questa è la nostra produzione. È aria fresca. È aria fresca. Quante pecore hai? Un 500. Wow! Wow! No! Per varie volte ho anche smesso di dipingere, anche per mesi. La maggior parte delle volte perché magari non stavo bene, ho avuto dei problemi di salute. Altre volte perché magari non trovavo lo stimolo più a varie vicissitudini. La volta in cui ho sentito l'importanza, più di tutte le altre volte, è stato proprio recentemente quando due anni fa, poi di nuovo non sono stato bene. Il processo è stato abbastanza lungo, poi ho subito anche un intervento e recupero tutto. Ma la prima azione che ho fatto, cosciente, che mi stesse in qualche modo aiutando, che mi stesse servendo, quando non potevo fare nient'altro, è stato prendere i fogli e cominciamo a usare, anzi per la prima volta usare l'acquarello che poi di tutte le tecniche è la più lieve, quella che maggiormente in quel momento potevo utilizzare. Anche sulla spinta di un mio carissimo amico che mi ha chiesto in quell'occasione se riuscivo a fargli dei disegni per la copertina di un libro di poesia che stavo pubblicando. Questo è stato una cosa incredibile, mi ha dato una spinta, un'energia per ricominciare e per trovare dentro questa, che ormai è una pratica, quasi la ragione di vivere, la ragione di continuare a credere anche nelle cose belle e tutto quanto. Ci siete tutti? Questi sono per te amico mio. Grazie. Vengo andato da questo posto che era abbandonato da tantissimo tempo. Quando ci sono entrato 12 anni fa ho cominciato a prendermene cura e sento che c'è un legame tra questo e il mio modo di fare arte. Se vuoi per me, secondo me l'arte può alla fine nient'altro che aprire gli occhi, i sensi su tutto ciò che c'è intorno e cominciare a comunicare, prendersene cura, ascoltare, guardare come le cose si trasformano, come le stagioni ancora si susseguono. credo che c'è un nesso profondo. Non sono ancora arrivato a capire tutte le leggi di questo nesso, però continuo a lavorare per cercare. Lo faccio con gli alberi, lo faccio con l'ulivetoli dietro, con questi agrumi, con i gatti che hai visto, con qualsiasi essere poi entri nella mia vita in qualche modo e ha a che fare qualcosa con me. Mi piacciono tantissimi artisti. Tecandia, che in qualche modo in questa terra è stato un grandissimo liberatore, io penso, perché ciò che ha fatto non è stato soltanto il bello di ciò che ha lasciato nelle sue opere d'arte, ma anche il modo in cui l'ha fatto perché è stato abbastanza di rottura e provocatorio per quegli anni in questa legge così molto tradizionalista. Però alla fine, come dicevo, penso che uno dei più grandi per me sia Van Gogh, perché comunque in qualche modo è legato a questo modo di vedere il paesaggio come se non fosse più semplicemente un posto bello di campagna o di natura o quello che è, ma un modo di sentire un essere che respira è fatto di tantissimi altri esseri più piccoli che insieme collaborano e questo si vede, si sente dentro le sue tele tantissimo. Per cui, se proprio vogliamo, ciò che mi piace poi alla fine è il sentimento dentro la pittura, ciò che cerco è il sentimento, ciò che vorrei comunicare è uno stato d'animo che a volte può portare a una più estrema comunicazione con la persona, col fruitore, diciamo, dell'opera stessa. Bardamou è uno pseudonimo, viene da un libro di uno scrittore francese che si chiama Louis-Ferdinand Céline, il libro è Viaggio al Termine alla Notte, un libro bellissimo, letto più di 30 anni fa, che mi ha colpito moltissimo perché il personaggio comunque, per molti versi, sembrava mi assomigliasse. anche lui è partito per numerose avventure giovanili e poi tornato nei soborghi della sua città. Come è accaduto un po' a me, anche se alla fine è andato benissimo così perché il viaggio mi ha riportato anche a capire ciò che qui c'era e sulla base di queste cose continuo a lavorare, continuo a trovare la magia in quello che faccio. Grazie a tutti. Bene, questa era la storia di Fabio Inglese Bardamou e della sua arte. Fabio, se qualcuno vuole contattarti, magari interessato ai tuoi lavori, dove può trovarti? Ossia una pagina Instagram, Fabio Bardamou Inglese, che è la pagina Facebook Fabio Inglese e lì potete trovare anche il mio numero in caso. Vi ringrazio molto a tutti, ringrazio Gianni per avermi dato questa opportunità e un saluto, abbraccio da Lecce. Spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!